La 5G sarà una rivoluzione tecnologica che dovrebbe trasformare la maniera di comunicare. Il problema è che si necessitano enormi infrastrutture sulla Terra, in acqua e nello spazio. Infatti, le frequenze usate dai satelliti di 24 GHz andranno a interferire con le frequenze della 5G. Il problema non è solo che le comunicazioni potrebbero venire disturbate. Queste particolari frequenze sono usate infatti per individuare le molecole dell'acqua e potrebbero quindi falsare tutte le previsioni dei satelliti meteorologici. Una stazione o anche un satellite che usi tecnologia 5G non costituiscono ovviamente un problema e l'intera infrastruttura a crearne, in quanto le emissioni radioelettriche fuori dalle frequenze così invasive della 5G potrebbero confondere tutti i dati dei satelliti e impedire quindi delle previsioni che sono diventate negli anni sempre più precise. Il vapore acqueo emette un basso segnale fissato a una determinata frequenza, dice un'esperta. Può essere misurato con strumenti precisi, la 5G interferisce con queste frequenze e potrebbe quindi falsare i dati. Anche in Ungheria il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei ha assicurato a Euronews come il problema non si ponga neppure, visto che i 26 GHz della 5G avrebbero un loro spettro e non entrerebbero in conflitto. L'autority per le telecomunicazioni Magiara afferma come non ci siano piani per usare le frequenze menzionate da Huawei frequenze comunque diverse da quelle dei satelliti meteo e che l'uso sarebbe comunque in aree distanti da quelle che interessano i meteorologi.